La notte del 23 febbraio del 2014 il 17enne Nicola Tincani dopo una serata con gli amici non ha fatto ritorno a casa. Inizialmente era stato ipotizzato che il giovane si fosse tolto la vita. Ora però una versione raccolta dai carabinieri inizio anno permetterebbe di scrivere una nuova pagina su quello che era sembrato un suicidio. Nicola aveva trascorso la serata in compagnia degli amici al crash pub di via Caoddo a Monselice ma non aveva fatto ritorno a casa. La mattina del 25 febbraio i vigili del fuoco hanno trovato il corpo che è stato ripescato a tre metri di profondità. Il telefono cellulare aveva dato l'ultimo segnale attorno alle due di notte ma non è mai stato trovato neppure il suo portafoglio, un dettaglio mai sottovalutato dalle forze dell'ordine e dal PM Padovano che ha fatto ascoltare sommare informazioni alcuni amici di Nicola. Dopo quelle dichiarazioni è spuntata la nuova ipotesi investigativa. Nicola potrebbe essere morto dopo essere stato rapinato. Al momento il fascicolo in procura è privo di sospettati.